Gorgonzola. Il gorgonzola dal gusto delicato si presenta cremoso, di colore più chiaro e con venature verdi meno intense, si è poco stagionato. Esso è assolutamente morbido, spalmabile. Il gorgonzola piccante invece si riconosce perché ha una pasta più soda, l'erbolinatura, così si dice, cioè, parliamoci chiaro, la muffa è più accentuata e di colore verde più intenso. Si conserva a volte in carta stagnola o in un contenitore chiuso. È un grande fermaggio, ricordatevi che il gorgonzola, quello vero, è sempre dop.